Buona domenica, 23 dicembre, di nuovo collegati in diretta con Udinews TV, il momento dei quotidiani sportivi per tornare a parlare della partita di ieri dell'Udinese, di tutto il turno della Serie A prima del Santo Natale, poi però la Serie A non si ferma perché ci sono altri due importanti turni prima della fine dell'anno, ma cominciamo con la sintesi, il servizio che ci racconta l'Udinese di ieri. La prima panchina a Ciociara si affida ad un 5-3-2 speculare con Ciano e Dionisi davanti, ritmi molto bassi in avvio, ci prova al decimo Cibsadi in pensieri Remusso con un debole colpo di testa su cross di Beghetto. Il primo squillo dell'Udinese porta alla firma di Fofanà che al minuto 14 riceve palla sulla tre quarti e scocca il destro dei 25 metri con la palla fuori di poco. La scossa arriva però al 32esimo a scuotere il torpore di una gara addormentata e una sortita sulla destra di Larsen che mette al centro la palla. Mandragora si avventa sulla sfera colpendo fortissimo col sinistro senza lasciare scappo a Sportiello. Prima rete in bianconero per il centrocampista che mette da parte l'occasione di San Siro contro l'Inter trovando una splenda conclusione che regala il vantaggio ai suoi. La reazione del frusinone non tarda ad arrivare e tre minuti più tardi Ciano calce dalla distanza scheggiando il palo a Musso battuto. Si va negli spogliatoi sull'1-0 in avvio di ripresa l'Udinese ha la palla per chiudere il match ma De Paul dopo una bellissima serpentina pecca forse di lucidità tentando il tiro a giro piuttosto che servire lasagna tutto solo in aria. Al minuto 61 arriva l'episodio che rimette in equilibrio la partita. Palla vagante in aria e con Gantici Paciano ma secondo il direttore di gara Valeri lo fa toccando l'attaccante giallo-blu. E calcio di rigore. Dopo un lungo silent check l'assistente Alvaro Dersini conferma la decisione di Valeri non chiamandolo a rivedere sul campo il contatto che resta assolutamente dubbio. Una scelta apparentemente inspiegabile. Fatto sta che Ciano non esita dagli 11 metri battendo Musso per l'1-1. Nicola prova a riportare le sorti della gara dalla sua parte varando l'assetto offensivo con l'inserimento di Pussetto per Fofanà e di Macis per D'Alessandro. Nel match non regala ulteriori emozioni. Finisce così con l'Udinese che è costretta ad accontentarsi del pari e resta in una situazione difficile di classifica. Abbiamo visto le fasi salienti della partita di ieri nel servizio di Jacopo Romeo, il vantaggio di Mandragora e poi il pareggio del Frosinone su un rigore. Grazie a un rigore che ha suscitato molti dubbi e anche molte polemiche anche in sala stampa. Intanto cominciamo a vedere cosa dice la Gazzetta dello Sport in merito alla partita di ieri. L'apertura è natale da signora perché Juve Roma è finita 1-0 grazie al gol di Marione Mandzukic. 1-0, si inchina anche la Roma scudetto d'inverno con il record di punti. Invece problemi per le milanesi con l'Inter che pareggia con il Chievo e il Milan che invece perde 1-0 contro la Fiorentina. Gol di Chiesa. Le notizie salienti sulla Gazzetta dello Sport. Mandiamo la pagina dedicata all'Udinese che dice che l'Udinese non decolla, piovono fischi, dice il corrispondente della Gazzetta inviato a Udine. Baroni parte bene, gioca meglio il Frosinone. Ciano risponde a Mandragora, la Dacia Arena contesta. Secondo la Gazzetta l'Udinese ha giocato un po' legata, impaurita dalla situazione, mentre invece si parla anche del rigore. Perché appunto è il rigore che è dubbio. Il Frosinone comunque non si è mai disunito, ha guadagnato campo e ha creato più dell'Udinese dopo il rigore di Ciano. Comunque è discutibile il contatto fra Econ e lo stesso Ciano. Comunque Valeri prende 6 in pagella, ma è come oggi nel suo caso vale quello che diceva Boscov. Il rigore è quando arbitro fischia. Lui e il Var Gersin hanno visto il fallo di Econ, un episodio che comunque è poco chiaro, ma la Gazzetta dice fidiamoci. Mentre invece le parole di Nicola sono state molto diverse, ho visto dei progressi comunque dei miei ragazzi. Il rigore invece non era, non sono d'accordo su questa decisione, dice educatamente, bisognava almeno andare a rivedere l'episodio. Allora sentiamo anche le parole del mister dopo la partita. Ma in parte all'episodio non dipende da noi. Io non sono d'accordo perché l'ho rivisto e non trovo neanche corretto il fatto che non si sia rivisto per assegnare una decisione così definitiva, importante. Però lo accetto perché questa è la mia cultura sportiva. Venendo la partita dico che questo è il quinto punto in cinque partite. Non ci può soddisfare interamente, è normale che sia così. Però io comunque sto vedendo che i ragazzi continuano ad allenarsi per crescere. Io non sono straconvinto e si accetta anche il fatto che magari non si possa essere completamente soddisfatti come pubblico. Accetto anche le reazioni perché noi siamo professionisti e perché anche nel bene e nel male è giusto avere delle esternazioni di emozioni. Mi piace ricordare che la capacità di stare uniti nei momenti difficili ci può portare a costruire insieme, a soffrire insieme, a costruire insieme qualcosa di importante. E in questo ci credo ciecamente, per cui accetto qualsiasi esternazione. Però io voglio che questi splendidi tifosi, perché anche stasera l'han dimostrato, diano una grossa mano e si calino. Perché non credo che si possa pensare che questi ragazzi, noi tutti non stiamo dando tutto quello che possiamo in questo momento. Arriveremo a crescere di più, io ci credo. Abbiamo bisogno di tutti. Andiamo a vedere anche cosa dice il Gazzettino sulla partita di ieri con un titolo che recita così, un Natale solo nero, solo 1-1 in casa con il Frosinone, un altro passo indietro. Per Nicola, Michiere Mezzopieno, fatti dei passi in avanti, il tecnico contesta il rigore del pareggio Ciociaro. Il Bologna invece fa 0-0 nel derby, non supera i bianconeri. Leggiamo cosa dice Guido Gomirato. Chissà se ai bianconeri capiterà ancora una così ghiotta opportunità di allontanarsi dalla zona rossa. Ieri si sono rivisti quegli errori che da troppo tempo rallentano la marcia dell'Udinese che ben presto si è sgonfiata al cospetto del Frosinone, tanto che i suoi tifosi non l'hanno perdonata come invece era successo contro l'Atalanta. Con un avversario tutt'altro che irresistibile, è stata una brutta interpretazione della compagine di Nicola che fa buon viso a cattiva sorte, che parla di progressi, che se la prende giustamente con il VAR e con l'arbitro, orrei di essersi inventati il rigore che ha propiziato il definitivo 1-1. Il momento è tra i più difficili. Ora la trasferta a Ferrara, l'ultimo atto del torneo, e poi anche la gara del 29 contro il Cagliari che fanno paura. Ieri pochi si sono salvati, in compenso la confusione l'ha fatta da padrona, ma nulla è perduto. Fra quelli che si sono distinti, soprattutto per il gran gol, Rolando Mandragora che dice preferivo vincere e non segnare, e quindi piuttosto portare a casa i tre punti, un pareggio che ci sta stretto. Volevamo raccogliere di più. Sentiamo allora le parole di Rolando Mandragora, sempre a Maurizio Ferrari. Rolando, hai sentito indubbiamente il gol più difficile tra tutte le occasioni che ti sono capitate qui all'Udinese, c'è un pizzico di rammarico che, come dicevano dallo studio, magari non si avva sui tre punti. Sì, c'è il rammarico. Avrei preferito non fare gol e vincere la partita quest'oggi. Purtroppo ci portiamo a casa un punto che ci sta un pochino stretto, però adesso abbiamo un'altra partita ravvicinata, e ancora un'altra, quindi cerchiamo di ottenere quanti più punti possibili. Alla fine del giro dell'andata tireremo le somme. Il mister ha detto che questa è stata una battaglia, ci ne aspettano altre, è con questo spirito che state cercando di affrontare, questo momento sicuramente delicato, perché la classifica è quella che è. Il mister ha detto che bisogna essere chiari, bisogna essere diretti. Anche voi, gli spogliatori, con i compagni, state ragionando con questo piglio, con questa mentalità? Sì, noi innanzitutto dobbiamo cementare le richieste che il mister ci fa, e poi dobbiamo metterle al metto e andare ad affrontare queste battaglie che ci aspettano. Rolando, ci sono stati tanti anche errori tecnici, individuali, singoli. Cosa secondo te questa sera magari non ha funzionato per vedere fare quel piccolo salto di qualità in più all'Udinese? Guarda, questa credo sia un'analisi che aspetti al mister, io non so dirti quello che è mancato, avevamo voglia di fare risultato, magari la troppa voglia anche di fare risultato, ci ha creato delle aspettative che poi non sono rivelate tali. Come ho detto, purtroppo è arrivato un punto, ci prendiamo questo e continuiamo a lavorare con la voglia di fare risultato già dalla prossima partita. Magari anche la pressione del pareggio, che di fatto ha impedito di essere più lucidi, magari ci sono state altre chance per l'Udinese che però non è riuscita a concretizzare la squadra, magari quel gol vi ha minato un po' le certezze. È chiaro, però il calcio è questo, ci sono delle difficoltà da affrontare, delle volte si affrontano bene, delle altre un po' meno. Quindi lavoriamo anche sotto questo aspetto e puntiamo dritti alla prossima partita. Tu sei un po' uno delle voci dei leader e dei spogliatori, vi siete detti qualcosa dopo la partita, proprio visto che c'è un altro impegno imminente per caricarvi, per darvi un po' di slancio per la prossima gara. No, diciamo che tutti i vincitori giocatori siamo tutti dei leader, ci parliamo tanto, ci aiutiamo l'uno con l'altro, adesso abbiamo solo voglia di fare prestazioni di livello che portino ai risultati. Vediamo anche le pagelle del Gazzettino. Ai bianconeri non si salva Musso, che ha propiziato il gol del pareggio, dormicchiando tra i pali, invece di intervenire in anticipo su Pinamonti. Bene, invece la difesa con Strugger, Kong e Noiting, che si guadagnano la sufficienza, e anche Teravest, Fofana e Berami invece insufficienti, incidono poco e fanno confusione. Sei e mezzo per Mandragora, soprattutto per il Gran Golla, anche se nella ripresa ha giocato a Sprazi. Sei per D'Alessandro, invece insufficienti De Paul e Lasagna. Lasagna ha definito come fuori forma, in ritardo invece De Paul paga anche, aver fallito la seconda occasione, capitata agli sul piede, per il raddoppio. Andiamo a vedere anche il Messaggero Veneto, come descrive la gara ieri dell'Udinese, in apertura di pagina, in prima solo pari col Frosinone, rabbia dei tifosi, un Udinese povera, dice il titolo di apertura di sport, e seppure il VAR resta spento, sono guai seri. Bianconeri confusi, ma avanti 1-0, poi il rigore è definito come inventato, pari Frosinone, zero reazione, contestazione dei tifosi. L'azione chiave, secondo il Messaggero, è il delitto e castigo. Al 55esimo, De Paul prende palla sulla tre quarti, dribbla due uomini, Lasagna lo accompagna a sinistra, aspetta il possibile assist, l'Argentino invece sbaglia all'interno destro, che esce a lato. L'errore è capitale, poco dopo arriva il pari ospite, anche se, l'abbiamo detto, su un rigore molto, molto dubbio. E poi vediamo anche la pagina successiva, le pagelle, i commenti a caldo, prima, guardando appunto le pagelle dell'Udinese, vengono bocciati, senza ritegno, Fofanà e Berami, De Paul si mangia il 2-0. Le pagelle sono tutte insufficienti, gli unici sufficienti, D'Alessandro e Musso. Musso perché intuisce il calcio di rigore, ma non riesce a intercettarlo, e poi viene anche sollecitato da un'incornata di Cipsa, e poi invece D'Alessandro non fa niente di straordinario, ma almeno gioca, tentando la giocata e facendo le cose giuste, anche quando viene attaccato. nel finale è provvidenziale, con una chiusura centrale. Gravemente insufficienti, invece, Fofanà e Berami, che si beccano un 4 in pagella, come Macis, che si accentra e calcia, invece di puntare il fondo, e crossare, non impara dai propri errori. E poi, le parole di Nicola, che difende la prestazione della squadra, e manda un monito all'ambiente, non prendere atto della situazione, significherebbe avere poca umiltà. I ragazzi possono dare questo, al momento non è possibile schierare, più giocatori offensivi. E il rigore, non è andato giù, neanche al direttore, dell'area tecnica bianconera, Daniele Pradè, quel calcio di rigore non mi va giù, non mi va giù, che è il fatto che non si è andato a rivederlo, e non mi va giù, perché è un episodio talmente di gioco, talmente leggero, che non si può dare un rigore così facilmente, in una situazione, tanto difficile. A riguardo alla gara, si poteva fare di più, certamente, ma la squadra, fino a quel momento, aveva fatto bene, anche se il pubblico aveva un po' fischiato, ma la palla bisogna tenerla, potevamo fare gol nel secondo tempo, l'avremmo chiusa, dopo il pareggio, la gara è cambiata, sono tornati i fantasmi, e ai giocatori giovani, viene il braccino, cioè la gambetta, comunque è arrivato un punto, e ce lo teniamo, aspettiamo, perché neanche fra due giorni, c'è un'altra partita, importantissima, così dice, il direttore dell'area tecnica, Pradè. Vediamo anche che cosa è successo, nelle altre gare di serie A, poi ci spostiamo a parlare, sempre di calcio, sulle testate locali, la Juve, ancora imbattuta, in questo ultimo periodo, Juve da film, con Supermanzo, che c'è anche Juve Roma, finisce bene, per i colori bianconeri, scudetto prenotato, più 8 sul Napoli, più 16 sull'Inter, di Francesco Timido, non basta, un grande Olsen, e qui si celebra anche il gol, di Mario Manzucic, con poi, anche, la cavalcata, dei bianconeri, non abbiamo vinto nulla, dice il tecnico Allegri, che è campione d'inverno, con due gare, d'anticipo, Di Francesco rimane positivo, ma resta in bilico, adesso la parola passa a pallotta, poi ancora il Napoli, che rischia l'attacco in crisi, Meret evita la beffa, Ancelotti fa mini turnover, prima dell'Inter, Milik finisce in panchina, la squadra crea, ma non concretizza, contro la Spal, nel finale il portiere salva l'1-0, appunto, perché Albiol, nel primo tempo, al 46esimo, aveva fatto gol, portando avanti il Napoli, e qui vediamo Alex Meret, tra i protagonisti, di ieri, con un grande intervento, la prima rete della difesa, grazie a Raul Lincedibile, è diventato un punto fermo del Napoli, Albiol sa come sfruttare, le palle inattive, poi invece, Pandoro Amaro per l'Inter, così dice la Gazzetta, a Peresi c'è solo un'illusione, per gli si e gol, pari al 91esimo, a Verona il croato torna protagonista, dopo diverse gare, in cui era stato anche criticato, i nerazzurri però non chiudono la partita, la partita è per il Chievo, arriva la rimonta di carattere, Spalletti dice, poco cattivi a gennaio, niente avanzi, non ci interessano gli scarti, delle altre squadre, dice il tecnico, nerazzurro, l'unico regalo è Ivan, il suo ritorno con una buona prestazione, si sveglia e segna dopo 112 giorni, ma dice, è come avere perso, l'importante è vincere, il mio gol, non conta assolutamente nulla, non se la passa bene neanche Milano, che perde con la Fiorentina per 1-0, con un gol di Chiesa, battuto a San Siro, Gattuso rischia, due vittorie o salta, il colpaccio dei Viola, grazie anche al gol di Federico Chiesa, senza gol da tre partite, il Milan viene punito, spaccare i tavoli non serve, dice, siamo in crisi, ci mettiamo la faccia, e ci assumiamo le responsabilità, e il gol, si dice sulla Gazzetta, è un atto di fede, male il Pipita, mai così male da quando è in Serie A, Chiesa invece esulta, prima gioia, contro una big, imitando il papà. Poi ancora, andiamo a vedere le altre gare, come sono terminate, sempre leggendo la Gazzetta, il Toro beffato da Brignola, Granata avanti con Belotti, poi il piccolo attaccante, pareggia di testa per il Sassuolo, è finita 1-1, rabbia di Mazzarri, c'era un rigore su Zaza, ma anche lì non è stato utilizzato il VAR. Il cinepanettore Genoa, Piontek fa piccola l'Atalanta, 3-1 il risultato finale, con l'autorette di Tolloi, poi il gol di Zapata, e poi Lasovic, doppietta di Piontek, partita da Filma Marassi, con 4 gol, 2 rigori e 2 rossi, protagonista è il bomber polacco, che segna e procura anche l'autorette. Orgoglio di Prandelli, testa ai muscoli, la strada giusta, il tecnico alla prima vittoria, siamo sempre stati in partita, non si dà pace invece Gasperini, che dice, condannati dagli episodi. Poi ancora la Lazio, uno scatto da quarto posto, Cagliari non pervenuto, 3-1 il risultato finale, 0-0 fra Parma e Bologna, una gara che ci interessa particolarmente, in Zaghi prepara una ragnatele, in Gabbia, inglese e Gervinio, e giallo-blu sono vicini al gol, ma poi si spengono piano piano, quindi pari in Parma-Bologna, Bologna, mentre invece Cagliarella va ancora in gol, fa l'ennesimo record, 4-2 il risultato per la sua Sampdoria, a casa dell'Empoli, ci sono solo gli ospiti, perché l'Empoli va avanti, ma alla fine la Sampdoria si scatena, il Napoletano segna per la settima gara di fila, supera il record blucerchiato di Barison, Caprari onesto, anche lui va in gol, dice, il mio era un cross. Questi i risultati della Serie A, andiamo adesso a vedere quanto sorride il Pordenone, che invece è campione d'inverno, lo vediamo in queste pagine del messaggero, titolo d'inverno in Serie C per il Pordenone, che si fa riprendere al 91esimo dalla Gianna Erminio, ma il pareggio conquistato in Lombardia basta per assicurarsi il primo storico titolo d'inverno, in Serie C Neroverdi, che addirittura allungano in vetta sulla Labarda, battuta 2-0 a Teramo e sulla Ternana. E qui vediamo qualche scatto della gara, Berrettoni a segno nel primo tempo, nel finale la Gianna pareggia, ma non pregiudica uno storico meritato traguardo, quindi Pordenone campione d'inverno, nonostante il gol beffa al 91esimo. E Tesser è felice, ovviamente, ricorda una precedente benaugurante a Gorgonzola, con la Cremonese, qui perdemmo in extremis, e poi conquistammo la B, anche se il Tecno si è arrabbiato al gol di Rocco, in pieno recupero. Per quel che riguarda invece la Coppa Regione, per quel che riguarda la finale di Coppa Italia, il San Luigi si prende un bis di gloria, capitola il Brian, le assenze hanno pesato, Ciriello e Cottiga spingono avanti i Giuliani, in sei minuti nel primo tempo, i Friulani reagiscono, ma alla fine devono capitolare. 3-1 il risultato finale, il San Luigi si porta a casa, la Coppa Italia di eccellenza, un'impresa mai riuscita a nessuna in precedenza, il San Luigi è nella storia, i triestini guidati dal Friulano, Luigino Sandrin, conquistano per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia di eccellenza, e Birtig, il tecnico del Brian, dice pagata l'inesperienza. Parlando invece anche di Circo Bianco, di sport invernali, continuano le buone performance di Lisa Vitozzi, dopo la staffetta del Biatlon degli scorsi giorni, un inseguimento per lei da campionessa, parte diciottesima, finisce quarta nella Pursuit di Biatlon, in Coppa Show della Sappadina, Lara Della Mia invece finisce trentatresima nello slalom, ma la Vitozzi per adesso, nella classifica generale di Coppa del Mondo, è terza, quindi un ottimo risultato per la Sappadina. Prima di salutarci, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, con l'Osmer, vediamo come sarà questa giornata, un aggiornamento per quel che riguarda proprio la situazione meteo, su tutte le zone cielo variabile, su pianura e costa, localmente, anche nel fondo valle più chiusi, ci sarà probabile ristagno di foschia o di nebbia, specie nelle ore notturne, sulla Cresta Carnica, in quota al confine con l'Austria, è possibile nevischio a tratti, evento moderato sostenuto da nord-ovest, comunque temperature ancora abbastanza alte. Vediamo invece il traffico sul sito di Autovie Venete, per vedere com'è questa giornata, c'è comunque il blocco dei mezzi pesanti, in questo momento il traffico è scorrevole su tutta la rete autostradale della nostra regione, sia sulla A4 che sulla A23, non ci sono problematiche, a parte quelle consuete, ovvero i restringimenti per i lavori della terza corsia. Infine, vediamo i programmi di quest'oggi sul nostro canale, perché noi ovviamente continuiamo a tenervi compagnia durante tutta questa giornata, alle 20.45 ci sarà un'intervista da parte di Domenico Pecile a Irene Cao, la scrittrice pordenonese, invece alle 21.30 come sempre studi e stadio commenti e gli approfondimenti su Udinese, Frosinone, sempre insieme a Francesco Pezzella e ai suoi ospiti. Il Tg ritorna questa sera alle ore 19 e noi adesso vi auguriamo una buona domenica e vi lasciamo all'appuntamento con Guido Gomirato e il suo accade oggi. Il 23 dicembre 1984 è in calendario al Friuli, in una giornata molto fredda, la sfida tra l'Udinese e la Fiorentina. È il tredicesimo turno, manca il giocatore più atteso, Zico, Zico che è in Brasile a curarsi, ma il Galigno quando mancano due giorni al Natale vuole fare gli auguri a tutto il popolo bianconero ed ecco che parla attraverso il cosmo che è sistemato in curva sud. Si addolora per la sua assenza ma dà speranze ai tifosi bianconeri. In poche parole dirà mi sto curando dall'infortunio di natura muscolare ma tra una settimana dieci giorni al massimo sarò in Friuli per dare una mano alla squadra. Auguri a tutti, tenete duro. Quel giorno l'Udinese non va oltre il pareggio. 2-2 ma è una partita entusiasmante, elettrizzante. Il risultato è giusto ma l'Udinese piano piano senza il suo grande condottiero perderà posizioni su posizioni. Zico rientra in campo a febbraio nella disgraziata, sfortunata, emozionante gara casalinga contro i futuri campioni d'Italia del Verona che vinceranno per 5-3. L'Udinese in quella stagione riuscirà a salvarsi vincendo il 28 aprile ad Ascoli una gara delicatissima gol nel finale di Tesser. di Tesser. Grazie a tutti.